al secondo posto per la fede di camarasse francesco re bagnati vediamo la vittoria di questa gara a cui è abbinata il primo dei premi speciali il trofeo dedicata a memoria di franco a sale per il vittore di questa gara che con tempo di 14 e 95 per la carispezia e giacomo cortini un bel applauso per questo appoggio dei centenesi ostacoli a ieri memorial a sale franco a sale che il primo dei premi speciali ricordiamo anche ai partecipanti di altre gare che sono altri premi speciali abbinati ad altre gare in programma quindi oltre ai soliti premi avremmo anche questi